Abbia pazienza lei, oggi raccontaci un attimino la storia. No, è che comunque il mio paniere sembra vuoto ma non lo è. Comunque, vedi, c'è plastica, plastica, plastica. E c'è anche un bellissimo funghi merda. E' il cosiddetto funghi merda. No, no, ma comunque ascolta, ma com'è andata? Li hai fatti il culo oppure no questa volta? Ce l'hai fatta? Non ce l'ho fatta nemmeno questa volta. No. Il pomeriggio ha vinto lui. Vediamo un po' lino. Ma te? L'unico modo, Leonardo, l'unico modo che ha di vincere è andare senza di me. Se ci andavo io faceva il solito 100 a 0. Ci ha battuto a tutti, ci ha battuto, ma da solo. Quando siamo arrivati noi non ha trovato più un fungo. Più nemmeno un fungo. Più nemmeno un fungo. Più nemmeno un fungo. Più nemmeno un fungo. E' già vecchio. E' come me. Forse neanche buono. Grazie a tutti. 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 Non è freddo e poi li tramonti sotto. Allora Leo, tu dici che non ce l'hai fatta nemmeno questa volta con Gastone. Questo cestino qui preso la mattina, sì l'ho vinto io e il pomeriggio però non li trovavo alcuni. Madonna però allora aspetta, aspetta levo lo zoom, si guarda un pochino quanto tu ne hai trovato il 3 di luglio. Aspetta un attimino. Aspetta perché mi devo spostare e non è che si vedano tutti. Siamo al presso del 3 di luglio, adesso dove siamo è andato bene no? Non è malvagio eh? Aspetta ora ci si fa però il ripresino tutti e tre insieme a tutti i funghi. Ben via, sono tutti pagati sono. Sono buoni? No, no. Ora mi fa vedere la verità. Neva la casacca sotto. No, no. No, è che teno di bagni sotto. La sbagliera. 3 di luglio. Vai dai. E siamo alla petone. Sì. Non si vede. Ora ti prendi, non questo non lo diciamo, ma ti prendi. Insomma Leo via, te tu sei però il grande fungaio amico e trova funghi e chiama subito le persone. Sì, sì va detto. Come si deve fare normalmente? Mentre tutto il resto del mondo trovano funghi zitti. Sì, e poi vogliono essere chiamati. Mi dispiace, ci siamo un bacio di nuovo. Vabbè, ma oggi insomma un po' di funghi sono trovati. A parte te che ti ha messo la casacca nel tricesto. A parte te che sei venuto nel bosco senza dirla a nessuno. Ecco. Da brava merda e poi dopo che ti ha trovato funghi, tu ci hai ricamato. Secondo me gli ha trovato il castagno giù eh? Sì, sì, sì. Gli ha trovato il castagno. Auerci, auerci, ci ha portato in cima a facci. Vabbè, a parte queste cose. Fatti i banaciù che si piglia le petali. Eh, infatti.